Per la compagnia Artacan lo spettacolo è di venerdì 5 agosto, siamo con la regista Cristina Cinotti, il titolo però lo facciamo dire a lei perché con i dialetti non si scherza. Il titolo è La ricreazione e ha cominciato tutta la via, praticamente cercheremo di spiegare quello che è successo miliardi di anni fa e perché adesso stanno succedendo queste cose. L'idea ci è venuta leggendo alcune poesie di Gabbianelli che è un poeta fanese e da lì è nata questa idea che abbiamo sviluppato, però non sto a spiegare perché altrimenti cercheremo di dare delle spiegazioni del perché oggi succedono certe cose.